D'Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione, senza limiti. www.dantonioascensori.it Ore ufficiale, slittano in autunno le elezioni amministrative. Il via libera è arrivato nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri. Sette le regioni chiamate alle urne e che, causa emergenza Covid-19, dovranno dunque rinviare l'appuntamento elettorale. Si tratta di Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d'Aosta. Ci sono, inoltre, oltre mille comuni interessati al rinvio che è stato approvato ieri. Tra questi c'è anche il comune di Cava dei Tirreni. Nello specifico, siccome la durata degli organi regionali è stata posticipata al 31 agosto, la data delle elezioni regionali può essere fissata nelle quattro domeniche antecedenti della scadenza o fino a 66 giorni dopo, ossia tra il 9 agosto ed il 1 novembre. Mentre, per i comuni, le amministrative si terranno tra il 15 settembre ed il 15 dicembre. Per risparmiare un bel po' di quattrini, il governo dovrebbe puntare sull'Election Day, accorpando quindi regionali e comunali.